Noi nell'ambito dell'accordo quadro sulle politiche giovanili sulla terza annualità stiamo lavorando al progetto MetroCubo che ha come sottotitolo contenitore per libere espressioni. Questo progetto, essendo la terza annualità, nasce in conseguenzialità degli altri due precedenti che abbiamo fatto. Il primo anno abbiamo attivato una serie di laboratori in zone più depresse della provincia di Siena per rivitalizzare i luoghi delle casse del popolo e dei circoli arce, quindi laboratori teatrali di video eccetera che hanno in qualche modo aggregato gruppi di giovani, però poi mancava un luogo fisico o virtuale dove questi giovani potessero ritrovarsi al di là della main list. Nella seconda annualità abbiamo costruito la web radio che è la nostra web radio dell'Arce di Siena Radio Labo attraverso il progetto Labo appunto e questo è stato il luogo virtuale in cui tutti i ragazzi dei vari luoghi che avevano partecipato ai laboratori sulla base dei loro interessi hanno creato trasmissioni e stanno portando avanti la radio, l'hanno costruita interamente a partire dal logo fino ai laboratori per fare la diretta, per diventare tecnici eccetera. Dopo il luogo virtuale è venuta l'esigenza da parte dei ragazzi di un luogo fisico e per questo si è pensato a Metro Cubo su cui stiamo lavorando che sarà un luogo fisico che raccoglierà le libere espressioni di tutti, un luogo interamente gestito, partecipato da tutti i ragazzi e quindi ci sarà un luogo informale dove andrà la web radio che attualmente è in un circolo Arce in centro a Siena e poi sarà utilizzato dai gruppi informali che nel frattempo hanno costituito gruppi di teatro, sono interessati al cinema, c'è un altro gruppo che sta lavorando sulla fotografia e quindi sarà uno spazio su cui ognuno di loro potrà allestire i propri interessi e quindi sarà spero non solo allestito ma sviluppato sulla base della partecipazione e soprattutto dell'espressività e delle potenzialità e degli interessi dei gruppi informali che nel frattempo in questi tre anni si sono creati e devo dire la cosa importante che è un grosso risultato che questo progetto in queste tre annualità ha portato è che i ragazzi che nel frattempo si sono aggregati sono tutti ragazzi che non erano dentro la nostra associazione che non conoscevano l'Arci e quindi siamo andati a cercare in un bacino, si sono avvicinati a noi un bacino di giovani, ragazzi e ragazze che in questo luogo fisico e sociale hanno trovato la possibilità di esprimersi